Uno dei problemi più frequenti che riscontro in chi mi chiede aiuto è questo. Le persone dimenticano le proprie credenziali di accesso a Facebook o alla casella e-mail. Ecco qualche consiglio pratico. Usa una sola password per tutti i servizi, che sia abbastanza lunga, facile da ricordare e non contenga informazioni personali su di te. Non dimenticare mai la password della tua casella e-mail, perché è attraverso di essa che potrai recuperare eventuali altre password per se. Aggiungi sempre un indirizzo e-mail o un numero di telefono di recupero. Non scrivere mai una password su un pezzo di carta, dentro una nota dello smartphone o su un file di testo memorizzato sul PC. Non condividere mai un account WhatsApp o e-mail con un'altra persona. È una cosa che può generare problemi e confusione, soprattutto se devi utilizzare l'e-mail per accedere a servizi come lo Speed oppure ad un conto bancario.